Ma avete capito o no? Sì sì sì, andiamo Allora forza, andate Va bene Facciamo un'ultima ripresa E poi si va, un ultimo video si va Allora non ci siamo capiti Una cosa velocissima Eh? Una cosa velocissima Si fa un video dove c'è lui che si va via Perché è per il nostro lavoro A me fate il piacere di andarvene o no? Sì sì, ce ne andiamo Ovvio, forse Vai, facciamo un'ultima e non ce ne andiamo Vai Grazie a tutti